Chiara Pendino a Verbagna per portare le istanze di questa campagna elettorale, ambiente ma anche sociale, tanti temi. Ambiente, sociali, sanità, dove ci sono grossissimi problemi e anche trasporti. Tra l'altro siamo qui a sostegno di questo progetto, di un sindaco credibile, ma siamo anche qui perché il Movimento 5 Stelle in Parlamento più volte porta le istanze del territorio. Penso ad esempio a un tema che è molto caro qui, a Domodossola Arona, che so che sta per chiudere e questo creerà grossi problemi e non sono sufficienti i bus sostitutivi. Su questo stiamo interrogando il governo perché questo territorio merita una risposta. La sanità è in particolare anche questa, un'esigenza sentita da questo territorio? Molto sentita, è una sanità devastata da scelte di una destra sia a livello regionale sia a livello nazionale che stanno mettendo a rischio il diritto di curarsi. Chi ha soldi si cura, chi invece è meno ambiente non ce la fa perché non può rivolgersi al privato e quindi nel nostro progetto c'è un Movimento 5 Stelle che tiene la barra dritta sulla sanità pubblica. Lei ha detto che questo governo non sta facendo l'interesse del popolo. Beh, una Presidente del Consiglio che dice no ad esempio a salario minimo condannando 4 milioni di lavoratori ad essere sfruttati, che dice che non ci sono i soldi per chi è in difficoltà ma decide di non tassare gli extra profitti miliardari delle banche, francamente io credo che vada contro gli interessi del popolo. Grazie. Grazie a tutti.